Siamo al Consolato Italiano di San Pietroburgo, il Console Monti e l'Ambasciatore Terracciano festeggiano con la piccola comunità italiana di San Pietroburgo la Festa della Repubblica. Io auguro a tutti voi, a tutti gli italiani, a tutti i pugliesi buona festa della Repubblica. La mia regione da più di 15 anni lavora con grande intensità alle relazioni tra l'Italia e la Federazione Russa. In questo siamo molto aiutati dalla presenza in Puglia delle reliquie di San Nicola. Abbiamo lavorato molto con la città di Mosca, ma adesso che ho visto quanto è bella, è piena di idee, di fantasia, di cultura San Pietroburgo. Cominceremo con l'aiuto del Governo Italiano a lavorare con intensità anche con questa meravigliosa città. Stasera torniamo a festeggiare la Festa della Repubblica con un brindisi all'aperto. Speriamo rappresenti il primo passo verso il ritorno alla normalità dopo la pandemia. E quindi viva San Pietroburgo, viva la Federazione Russa, viva l'Italia! Grazie a tutti! Grazie a tutti!